Io sono Inis Gilla, vi aspetto il 4 dicembre sulla mia pagina di Google Plus per un hangout. I più fortunati di voi potranno chiacchierare con me e ricevere una mia firma digitale su Mercurio. Potremo fare delle chiacchiere, per sapere come partecipare c'è il link qui sotto. Ciao a tutti!